Abbiamo accolto, come dire, doverosamente, non potevamo fare altrimenti, l'impianto che l'Arcivescovo ha voluto dare alla festa di San Matteo, un impianto strettamente religioso che noi rispettiamo, rispettiamo in quanto è nelle sue disponibilità. Allora se l'impianto è strettamente religioso, che religioso resti? Un momento di raccoglimento, di preghiera, di compartecipazione popolare al momento liturgico e va bene così.